ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video eccoci qua con un altro episodio del reaction ai vostri video cioè voi diventate i protagonisti del canale qua con i vostri videini ma soprattutto con gli orologini ce li fate vedere no e noi li guardiamo e tutti assieme poi commentiamo io li commento qua e voi li commentate sotto così si crea un circolo vizioso dal quale non si riesce poi più ad uscire è una rubrica simpatica che mette in luce pregi e difetti dell'italiano medio e che ci fa capire come scegliete i vostri orologi che poi insomma è talmente personale che non ci si potrebbe permettere di giudicare ma siccome qua è tutto un gioco un gioco e lo facciamo no andiamo qualche cioffecalert qualche top di pancia e non è che c'è una scala precisa è di pancia come viene viene non state a sindacare va bene come partecipare lo sapete qua sotto c'è tutto questo bellissimo istruzioni che non vabbè tutte queste bellissime istruzioni è però prima vi faccio vedere l'orologio del giorno che anche oggi è questo viller vetta dyna wind 39 mm di diametro cassa calibro sillite sv200 quadrante nero indici a contrasto leggibilità gigantesca che io indosso con questo nato single pass in pelle realizzato da john cool straps che è il partner del canale e ho scelto questo me ne ha fatti due me ne ha fatto uno grigio da 21 normale e poi questo nato da 20 e io ho scelto per ora questo poi se mi gira metto quell'altro però mi piace il nato da di pelle mi piace molto ci sta bene ci sta bene primo video ciao davide sto ritornando non c'ho niente da fare mi sto annoiando niente ti mostro la mia collezione aggiornata a dopo cioè uno quasi annoia non sa cosa fare allora sai cosa facciamo facciamo un video per davide per la strada mentre cammino ma che minchia me ne frega no proprio il massimo del rispetto per la trasmissione come si vuol dire no complimenti per la trasmissione bravo dai guardiamo però almeno la collezione di orologi dai ed eccola qui la collezione oh ma che date le spalle al pubblico mazza che ignoranti che siete addrizzatevi ecco bravi adesso va meglio comunque dicevo questa è la mia collezione anzi mini collezione si fanno proprio mini mini perché sono soltanto tre pezzi va bene e adesso ve la mostro iniziamo con questo cos'è il pelagos da 39 mm bello tutto in titanio bellissimo secondo me con il bracciale sempre in titanio senza finti rivetti con la chiusura tfit scusate lo scotch però io purtroppo lo metto per preservarlo dai graffi ma a volte lo facevo anch'io di mettere un po di nastro di scotch trasparente sulla clasp in modo che quando sei alla scrivania non si graffia ora un po smesso però c'è stato un periodo che lo facevo potrei anche incominciare a rifarlo non è male come idea cioè nel momento in cui sei in privato a casa tua in ufficio dove ti pari a te lo puoi anche mettere no mentre lavori non c'è il fastidio di graffiarlo lo facevo lo facevo spessore molto esiguo esiguo molto fino fino ecco scusate pure qui lo scotch ma è proprio per diciamo ma dove l'hai messo così per perché anche di lato come la coperta del terreno ma no ma anche di lato ci hai messo ma dai ma non ci non ci puoi andare in giro così con il nastro del trasparente attaccato sulla carlur non si può vedere no già che poi mi hai fatto il video in verticale già qui ci sarebbe da prenderti a schiaffi proprio tun 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 perché lo dico mille volte non fate video in verticale e voi tutti fissati con i social no e tik tok e minchia qua e fate i video in verticale poi dopo qua sul sullo schermo del computer della televisione vengono delle colonne vabbè dai ma il nastro sul lato non si può vedere veramente diciamo alla patologia così almeno se lo poggi così non si graffia poi c'è una vita più libera questo è il tutor che tutti conoscono gmt tutto in acciaio a me sto spessore piace diteglie tutto questo spessore piace ma ci hai messo il nostro anche qua bracciale lastremato coi finti divetti che secondo me alla fine i divetti qual era la motivazione di mettere i divetti era estetico pure allora ma allora che volete saranno pure finti però sempre lo stesso risultato lo ottengono che è quello di estetica ma sì quindi va bene così ma che ci frega questo qui purtroppo gli manca la chiusura di fit però vabbè pazienza che sta la migloregolazione così quindi alla fine se la fa manda bene se la fa manda bene poi sta questo il sego tartolo con il pedro zaffero la chiera ceramica molto molto bello molto molto bello che stupendo c'è un'esterica bellissima e poi c'avevo anche una domanda da farti ma visto che ci sono un sacco di di orologi sotto ai mille euro che si meritano il top perché hanno fatto la storia nel diciamo del loro proprio del proprio marchio tipo il sego tartolo l'emilton kaki ma perché non hanno gli mette non gli fanno un bel bel simbolino dopo pure a loro ma magari che ne so argentato così per per simboleggiare che quello è il top in quella fascia di prezzo va bene secondo me non sarebbe male comunque dopo questo ti saluto e ti faccio tutti i miei complimenti per il tuo canale stupendo per tutto quello che fai per noi appassionati va bene grazie alla prossima alla prossima ciao 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 dai tre belli orologi nessuno non ha niente da dire a volte è più utile avere una mini collezione di tre orologi tutti e tre i decenti super decenti degli orologi piuttosto che tanti che no però poi ognuno fa come gli pare se mi piace avere 50 orologi da 100 euro e poi sdraiarmi nudo sul divano con gli orologi sopra e lo faccio cioè non è un problema capito ora il discorso del top se ci avete fatto caso sul topo ho anche un pochino cambiato già dalla scorsa puntata esiste lo scudetto topo con una stella due stelle tre stelle poi è già una suddivisione così poi di più non è che si può fare non è che posso fare 100 stelle poi dalle 99 centesimi 57 centesimi cioè dopo si dirà ma troppo accontentiamoci di quello che viene poi l'ho detto prima all'inizio sono di pancia cioè non è che potete stare di squisire sul perché super come no quello se lo merita no quello no è un gioco cazzo è un gioco va bene ma comunque se sei promosso prossimo video ciao davide un saluto a tutti i simpatici amici del canale io sono anthony anthony dalla provincia di latina e parto con farti vedere gli orologi iniziando da questi due casio che non sono propriamente nei ma di mio fratello che a volte ha dei gusti un po dubbi se qui me l'ha lasciato che poi uno fa un po così li compra e me li lascia a me ha ancora vivo ce l'ho qui non lo indosso perché anche se è un classico g shock insomma i colori non sono proprio accattivanti però la rosa classico g shock va bene e quest'altro invece mi ha portato questo è un world timer come si può vedere dal quadrante la batteria e lo rivendica anche e me l'ha portato perché l'ha ritrovato non so dove mi ha detto e aveva il cinturino suo originale spezzato quindi all'occorrenza c'avevo questo qui a disposizione anche se un po rovinato io l'ho messo e non sta male perché non avendo una solita cassa tutta nera ci sta bene va bene poi passiamo agli orologi meccanici inizio con farti vedere questo orient mago prima serie quadrante blu credo sia 42 mm o forse 40 con la corona ore 2 per la rimessa rapida della data qui ce l'ho da un po forse una quindicina di anni quindi comunque ai suoi segni ma va bene così e l'ho rimesso diciamo a nuovo da poco perché aveva il vetro completamente graffiato e l'ho rilucidato da me minerale fatto anche un bel lavoro come foglio di gomito e l'inserto chi era che mi era saltato e l'ho ritrovato dopo un po perché il distributore è arrivato da poco in italia se sono riuscito a riprenderlo bravo poi ti faccio vedere questo seiko ma preparatevi lì prima no no monster a rovescio prima serie monster bello da quindi un classico seiko monster ma la sua particolare forma della cassa particolare come rolocio gli ho messo questo cinturino preso ultimamente da un auto negozio online e è un paratrooper quindi un materiale elastico come si può vedere e quest'estate l'ho trovato comodissimo alla chiusura un po particolare bisogna un attimo farci l'abitudine però poi una volta indossato è molto comodo soprattutto in estate perché è elastico quindi si adatta al polso e molto leggero non è pericolosa con la chiusura lì ma fa un po paura avanti con questo seiko sumo sempre prima serie bravo scusate c'è un po di polvere eh sì la una bella pulita assistiamo questo orologio bello nelle sue forme anche se è un po massiccio io lo porto bene perché è un polso abbastanza grande del 18 e mezzo 19 circa quindi però lo porto bene anche se è un po pesantino però diciamo che le sue forme la sua cassa la ghiera affogata della carrura lo rendono un po più snello al polso ma si dai però rimane un po grande e un bestio bestio poi ultimo per finire con i di diver eccolo lì preso quest'estate sempre il promaster full lume l'ho preso con il cinturino in gomma bravo gliel'ho cambiato con questo qui preso sempre dallo stesso negozio che vende dove ho preso il paratrooper è molto leggero fino e morbido e a questa trama sono buccia si compro master asfalto poi ti faccio vedere questo qui cos'è stato più uno sfizio è un rato di a star degli anni 70 come si può vedere però a parte la volvere la cassa essendo in carburo di tungsteno non ancora non è segnata assolutamente rado master of materials il signore dei materiali nel senso che fa le casse si in ceramica ma visto qua carburo di tungsteno non so cosa sia presumo un altro tipo di ceramica rado di a star c'è anche la riedizione dei giorni nostri no anche l'ho fatti vedere ultimamente quando sono nato in negozio dal buon giacomo ci sono delle versioni di a star nuove che sono belle sono proprio veramente sono degli orologi di design che sono veramente poi da lì a dire lo vorrei nella mia collezione è un altro discorso però a vederli a guardarli anche quello scheletrato ce n'è uno scheletrato che dire scheletrato è un po generico no a un quadrante veramente con una trama particolare tutti sembra un meccano il meccano di un tempo è bello 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 è bello anche sto qua vintage chiaramente sono le parti in acciaio giuramente l'unica particolarità è il bracciale che anche se logato non crede sia originale quindi non saprei perché l'ho visti quelli a catalogo che ce l'hanno tutti diversi con la con la prolunga elastica invece di questa qui non sapevo solo un accrocchio però crocchio l'ologio è originale e per il momento lo tengo così si riesca a trovare un bracciale suo sicuramente la mano mio va bene carino comunque l'ho preso per questo un accrocchio poi crocchio poi sempre ecco lo ziosa avere un orologio sportivo non troppo ingombrante ho preso questo siti su josa del momento che per il suo prezzo fa il suo ultimo orologio fa il suo decente fa il suo bravo il su josa lo conosciamo tutti bene ma c'è il quadrante blu non ho preso colori stravaganti magari mi stufano è certo fatto bene dai e ti saluto con l'ultimo acchiappo oh ilala che è questo long jean spirit time spirit zulu time scusa da 42 mm 42 quadrante nero e ghiera verde ci piace e per il momento io ho messo questo cinturino della irsh però trovo troppo perché parte 22 da lanza e arriva 22 quindi un po' ingombrante però ci sta bene va bene dai con questo è tutto ok un saluto di nuovo a te e tutti gli amici e alla prossima alla prossima alla prossima love love il cinturino irsh che è messo su questo questo costano costano 150 200 euro sono orologi di cinturini di qualità evidentemente non me ne è mai capitato uno per le mani e costano costano un sacco a quel punto lì mi viene in mente facciamoci fare anzi un artigianale che più o meno il prezzo anzi forse qualcosa di meno ma te lo fai fare come vuoi perché lì 22 che parte 22 e arriva 22 li fanno sì magari su certi orologi stanno bene che ne sono un orologio un po' massiccio tipo un pane rai una roba così un dai verone può stare bene anche qua però 22 22 a me piacciono sinceramente quelli che rastremano un pochino di più cioè 20 ora questo qua essendo un nato per esempio 20 20 ci sta bene cioè non rastrema ma è un nato deve essere uguale si potrebbe fare un nato che rastrema sarebbe interessante va bene comunque sei promosso dai tutti i begli orologi tutti impolverati ma però tutti i degli orologi dai prossimo video ciao davide sono davidone da campo basso campo basso ti faccio vedere brevemente la mia collezione brevemente parto dagli inizi questo è un caso di shock che ho preso proprio i primi anni di università è molto umile infatti c'è i segni del tempo ma lo metto per andare in palestra al mare in piscina insomma a volte anche al lavoro capisce lavoro in ospedale però perché facilmente lavabile essendo in gomma ma quindi questo non ha un cinturino lo porto a casa lo metto sotto la doccia lo lavo utile e bello si è affezionato bravo per la laurea ho preso questo quello top in molto bello l'unica cosa vabbè insomma la clasp un po non so se si vede però c'è qualche perché comunque l'utilizzo ragazzi mi piace utilizzarli c'è un po di cioè le hard lines no le piccole linee che si vedono anche in contro luce basta sulla clasp sulla chiusura e devono esserci su tutti gli orologi cioè non si scappa anche quando uno si mette a vendere un orologio no che viene detto gli viene detto ma grafici non è sì c'è i graffi e minchia ma ce li hanno per forza i graffi sulla sulla clasp anche se non ti desse un orologio che non c'è i graffi e dopo cinque minuti c'è anche te a meno che non ci si mette un pezzo di scotch quando sei in casa ma quando va in giro no no quindi si grafia per forza micro graffi fai così lo lucidi se vuoi no oppure lo satini fai quello che ti pare ma dopo cinque minuti se li hai di nuovo quindi abituiamoci a queste cose qua un altro conto è se uno c'è un una dentata sulla 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 cassa con l'asportazione di materiale e da fastidio preso un colpo mi è andato via un pezzo d'acciaio e da fastidio ma sulla clasp sul bracciale dai qua non so se si vede però vabbè sì forse qua era un po rigata vabbè vada comunque bello molto bello verde questo da 41 sono soddisfattissimo di questo orologio per forza poi come secondo orologio questo seiko sarx 055 questa è la lancetta dei secondi blu un po' a neve questo sarb qua ne ho recensito tutti e due quello bianco e quello nero e sono veramente degli orologi delle chicche sono sono delle chicche gli è un toppino glielo diamo un toppino dai a ghiaccio anche questo qua è in titanio è limitato al mercato giapponese si vede un po' il movimento corona a pressione 100 metri simpatico molto bello qui ci ha abbinato anche un cinturino in coccodrillo nero ancora ti faccio vedere vai facciamolo contento ecco preso da un artigiano un bel cinturino in pelle spesso a coccodrillo fatto a modo con le impunture bianche così che ripende un po' un coccodrillo punture bianche è molto bello molto bello molto bello basta dire quello successivamente poi ho preso un camasu bravo e ci ho associato questo bracciale strap coat molto figo giubilè quello che poi avevi consigliato anche tu della strap coat miltad miltad strap coat uguale è veramente di qualità questo bracciale ma pure l'orologio in realtà mi mi dà molte soddisfazioni molte soddisfazioni ci sta molte soddisfazioni ho preso questo fantastico bello questo questo edizione limitata con il bracciale qua non so viene chiamato l'izzerskin vabbè comunque è veramente molto bello questo con un sellita 200 ben fatto ben fatto sì unica cosa ecco che lamento forse un po ma forse anche per gli stilemi che riprende magari la la clasp ecco un pochino un po troppo sottile un po lamierino però vabbè c'è nel senso poteva essere un po più un po più spessa forse differenza invece qua della deployante che è bella robusta robusta per il fondello sappiamo vediamo vabbè ben fatto ecco magari per la fascia di prezzo ma mi aspettavo un non tanto qua ecco magari delle viti piuttosto che questi perni qua a pressivo per la fascia di prezzo si aspettava le viti è anche è ormai anche anche un po strano no parlare di fascia di prezzo perché ci sono orologi che costano veramente i capa watches 300 euro 200 c'ha le viti le bracciale le faroncina non è che le faroncina costa 300 euro c'ha le viti legend diver costa 3600 c'ha i perni a pressione quindi questo qua costa mille per la fascia di prezzo mi aspettavo non ti aspettare niente non ci si deve aspettare niente perché sono tutte casuali le cose non è che se un orologio costa di più c'ha delle caratteristiche sempre migliori di quello che costa di meno cioè ti ripeto comunque vabbè molto bello anche questo mi dà molte soddisfazioni quando lo utilizzo molte soddisfazioni ma cosa sarà anche soddisfazioni poi ho preso questo zelos aurora bellino al quale ho applicato un tropic giallo non diciamo sulla scorta del del tuo siti zempro master ma più che altro sulla scorta del diciamo di riprendere un po il cuore ce l'ho anch'io allora il cinturino giallo tropic così ce l'ho anch'io che me l'ha regalato l'amico karamaschi è venuto qua un giorno e ho detto prova questo e mi ha regalato il tropic giallo così pari pari a questo quindi ce l'ho anch'io il tropic giallo e posso metterlo ovunque voglio anche io è quasi quasi colore della lancetta dei secondi e poi con l'azzurro diciamo che questo questo cinturino giallo ci sta veramente d'incanto a mio avviso è un po troppo è un po troppo astrologio si va bene stivo di città giallo quadrante azzurro così che sembra un po luna park con tutti questi glitter insomma è abbastanza bisogna trovare l'occasione giusta per indossarlo perché se no se te lo metti in determinate situazioni ti prendono per un bambino e capito c'è cos'è un gioco è un gioco questo dicono però bello oggi fatti bene è zelos anche questo è in titanio mi dà anche questo molte soddisfazioni forse la leggibilità ecco un po' poco poco chiara forse perché comunque il dial è chiara sono colori perché il dial è a sandwich gli indici sono scavati lo vedi c'è un po un po di confusione stilistica qua gli indici sono scavati a sandwich poi ci sono gli indici ai quarti che sono con la cornice metallica classica invece le sfere sono nere un po di confusione stilistica chiari e qui chiaramente diciamo gli indicatori anche questi che sono che questi bianchi insomma non è che sia una grande leggibilità però bello sì e comunque la qualità del tropic è innegabile molto alta e devo dire boh non so io ma comunque non so se magari è il mio naso ma ha un profumo di vaniglia il cinturino ah sì ci sono poi l'ultimo anzi il penultimo scusa questo zenith stellina che ho preso un bel vintage bellino qua ci ho messo un cinturino in pelle di squalo anche questo artigianale con delle impunture un po' più ocra forse non proprio bianche che riprendono il quadrante sembra plastica la corona questa è originale e non so se mette a fuoco vabbè sì ecco senso la messa a fuoco però purtroppo della fibia non è originale vedrò di trovarla in giro anzi se qualcuno ce l'ha volentieri la prenderei ce l'hai bene? eh sì questo pure mi dà soddisfazione soddisfazione? beh vabbè soddisfazione sempre per la mia laurea scusa l'ho dimenticato prima però insomma non va dimenticato un orologio così bello a me piace veramente tanto poi magari ecco il colore insomma associazioni di colori vabbè questo l'avevo messo il giorno proprio della laurea il giorno della laurea se ti sei presentato a discuterla con questo non lo so non ho capito come funziona l'orologio di paperino sembra ah quanti colori c'ha? non si può vedere arlecchino e mi è stato regalato da un mio amico eh per l'occasione e boh io l'ho l'ho apprezzo molto mi piace veramente tanto è particolare non si vede in giro l'ho messo poco per paura che i colori chiari sbiadiscano poverino che si possano rovinare vabbè a me piace tantissimo eh chiaramente eh cioè è un allora un giocattolo veramente che io reputo veramente bello è un bello spizio insomma andiamo avanti poi chiaramente come dici tu contento te contento tutti tutti e in ultimo ti faccio vedere questo foibos foibos kraken 300 metri e miota 90 15 se non sbaglio anche foibos è un marchio che lavora bene che fa dei begli orologi sono di hong kong loro è hong kong proprio eccoli qua fanno degli orologi con personalità fatti bene 300 metri visto il fondello proprio belli sono sbaglio veramente ben fatto io qua ho applicato questo cinturino in gomma che in realtà è dell'orient ah è dell'orient però ci stava veramente bene quindi ce l'ho messo sì ed è qua è bagnato perché l'ho appena lavato e sono tornato da lavoro bravo e devo dire bello bello dai massiccio fa il suo fa il suo la ghiera è precisa la corona è a vite no è veramente bello poi c'ha la data alcuni diciamo giorni pari sono rossi dispari sono bianchi gianzo e forse i giorni dispari sono più leggibili ed ha anche un impatto migliore comunque devo dire che il cinturino con cui era uscito adesso te lo faccio vedere era veramente ben fatto ah sì cioè è ben fatto non è che era è ben fatto è un cinturino veramente di qualità bello spesso bella deployant bella clasp con il logo vabbè io poi questo lo utilizzo per andare al mare lo utilizzo per andare in piscina anche questo comunque si vede che è bella la clasp anche questa è bella incidentata poi c'è qua la regolazione per la muta belli sti foibos bella rapida con le micro regolazioni poi ben fatto devo dire ben fatto foibos e vabbè Davide ti saluto è stato un piacere piacere mio tanti saluti da Campobasso da Campobasso un caro saluto oh bravo abbiamo finito meno male perché 8 minuti e 47 di video che si potevano anche riassumere in 5 sicuramente no parlando un pochino più veloce un pochino più insomma riassumendo la gente si perde beh gli orologi foibos in fondo qua l'ho sempre saputo che fanno belli orologi sono fatti bene ecco abbiamo avuto la riprova sono di Hong Kong quindi laggiù tutto costa meno made in China China Shenzhen tutto funziona così non vuol dire che se uno viene da Hong Kong o dalla Cina gli orologi sono fatti male anzi ci lavorano tutti con la Cina poi il resto non me li ricordo più che cavoli di orologi c'avevi dai qui c'è l'Oris bellissimo il pelve Sarb tanta roba eh Kamasu per la maggior parte vai per i Diver Zelos e Iema beh tutti belli orologi per la maggior parte sono Diver ma tutti belli orologi dai sei promosso sei promosso ciao Davide sono Daniel da Palermo volendo dimostrare velocemente la mia collezione di orologi comincio subito con questo meraviglioso Zenit lasciatomi da mia nonna appena restaurato casse in oro da 35 mm bello top cinturino nero in pelle di coccodrillo ci piace qualche anno fa ho acquistato un rado cut and cook da 42 mm con la variante in blu bracciale a chicchi di riso che conosci molto bene bravo si lo conosco bello Captain Cook uno dei miei primi acquisti di orologi è stato visodate questo tisso visodate automatico dedate da 40 mm bello 40 un long jeans flagship quadrante grigio 37 mm dedate automatico anche qui un flagship questo flagship qua era la linea cioè di longine pensate un po' qualche anno fa non tantissimo perché quattro anni fa cinque anni fa questi flagship qua erano di poco poco sopra ai mille euro di listino poco sopra e con lo sconto si portavano sotto ai mille euro si portavano via e io sono stato tempo a pensare di prendere o questo oppure c'era il flex la linea elegans e la linea record erano tutte lì tra i mille e i duemila euro che con un po' di sconto poi magari no una lisciata qua la si portavano via invece non le hai presi e ora sono tutti aumentati e per prendere un long jeans pari pari grado ti ci vuole mezzo stipendio di mezzo stipendio mezzo stipendio mezzo stipendio annuale ah bel bracciale bel bracciale poi andando un po' sul quarzo un sitizen regalato a me alcuni anni fa che non utilizzo molto spesso e meno male un vulova con un quadrante bianco cronografo brutto 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 un altro bulova automatico oh ma fa fa il suo e a chiudere e a chiudere la re-edition del ultimo big skin diver di cui hai fatto anche te una recensione 38 mm questo è l'ultimo arrivato che utilizzo ormai in maniera quotidiana si adatta un po' a tutto eh eh bello sto qua grazie per aver preso visione della mia collezione prego e alla prossima alla prossima grazie grazie mille collezioncina di pochi pezzi video veloce tutti carini a parte i quarzoni bulova che proprio quando vedo un orologio al quarzo della bulova mi viene proprio la tristezza la tristezza proprio mi sembrano orologi da profumeria no? quando ti va li scegli allora prendo un deodorante poi prendo questo eau de parfum e poi mi dai anche un bulova scheletrato da portare via così capito? non mi garbino poi orologico bulova fa anche altri orologi di tutt'altro tenore non è che siano orologi da top 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 ma buoni orologi e tutti questi i due le due punte di diamante sono il rado captain cook bella sai che mi è sempre piaciuto e quest'ultimo qua cos'era più che non mi ricordo cos'era l'ultimo eh il vulcane il vulcane nautique eh quello lì è bello l'ho anche recensito 38 mm perfetto per me è un po' piccolino ripeto 39 tutto quadrante 40 con ghiera vanno bene 38 incomincia forse ad essere un po' piccolino però mi stava bene a pulso prossimo video ciao davide ciao ti mando questo video da Conegliano provincia di Treviso secondo me sei Marco Panziera è l'amico del canale abbonato che non manca mai a un watch you meeting che commenta sempre ti conosco ti conosco eh mascherina ti conosco ma l'avevi già mandata la collezione è un'altra questa sono di più sono aumentati iiii quanti ce n'è ti voglio mostrare rapidamente la mia raccolta di orologi bravo partiamo dagli unici due orologi a batteria che ho questi due Casio non mi soffermo più di tanto no poi passiamo questo Sector degli anni novanta titanio che monta il calibro 28-24 un orologio che mi ha molto colpito per la sua personalità cosa che purtroppo Sector non ha nei modelli più recenti ed è un vero peccato se pensiamo a quello che produceva nel decennio degli anni novanta insomma se non gli si può dire che manca di personalità però la personalità deve anche essere accompagnata da una certa estetica gradevole qua diciamo che l'estetica gradevole manca eh oddio è molto anni novanta lo si vede lo stile e uno dice magari negli anni novanta piaceva va preso come un reperto storico degli anni novanta di stile di design e poi erano cioè erano belli orologi dai a parte gli scherzi adesso dai poi passiamo a questo Seiko SKX bravo 009 bravo non ho bisogno di presentazioni no davvero un evergreen per me yes dovrebbe starci una collezione poi passiamo a questi due Seiko 5 carini straconosciuti certo esatto questo io ho preferito prenderlo bianco anziché nero classico nero c'è anche blu eh l'altro Seiko invece ha un quadrante grigio antracite antracite come puoi vedere vedo vedo niente li ho presi nonostante il calibro basico ma a mio avviso sempre molto carini certo poi passiamo a questi due Orient che tu conosci molto bene Tristar Tobacco l'ho conosciuto grazie alla tua video recensione e anche l'Orient Kamasu ho preferito il quadrante rosso anziché verde è bello è rosso molto bello entrambi ho cambiato il bracciale originale rispettivamente ho messo un cinturino in pelle marrone acquistato su Amazon bravo e il bracciale Jubilee della Strap Code che a mio avviso ha annunciato la qualità di entrambi certo che già di per sé è ottima sì sì poi passiamo a questo Seiko Samurai King Samurai eh sì su Wigan che tu hai fatto vedere in un video nella gioiella Pasquali Domenici mi ha colpito molto il suo quadrante a piastrelle ed è un'edizione che omaggia la marina la marina giapponese oh stai per morire appunto detto anche Shuiro appunto per il colore della loro armatura che è rosso vermiglio dai 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 davvero un orologio molto bello oh ma in edizione limitata a 3500 pezzi ma cosa hai fatto le scale prima di fare il video perché stai sei sul punto di morte il fiato ti sta per scomparire cioè dai respiro e continua a parlare dai nonostante il suo diametro importante risulta comunque molto compatto almeno sul mio polso certo poi poi passiamo a questo Citizen che è NB1050 un quadrante blu che monta un calibro Miota serie 9000 l'ho preferito ai classici ai classici su Yosa che ormai la maggior parte di noi degli utenti hanno e questo è l'unica pecca di questo orologio che sono disponibili per il mercato giapponese infatti non l'ho mai visto però diametro migliore c'è 38 mm e oh oh e ha una clasp meglio rifinita rispetto allo zuiose stiamo per perdere l'unica pecca appunto che disponibile solo per il mercato giapponese hai detto vai avanti Marco io nonostante i dazi da pagare non mi ha fermato dal prendere braaaavo e sono molto soddisfatto meno Marco se tu un asse indietro lo riprenderei due poi passiamo a questo Radu Golden Horse top aspetta vedo se riesco a mettere a fuoco meglio ma non è quello il problema proprio si vede una cippa vado con le nus che ha un quadrante rosso rosso fuoco questo in origine nasce col cinturino in pelle nero vero io l'ho preso a pescaldi domenici è stato gentilissimo Giacomo vabbè nel fare l'abbinata con il bracciale a chicchi di riso abbinamento che ho preferito di gran lunga rispetto al cinturino originale certo e ha innalzato notevolmente la qualità dell'orologio braaaavo l'orologio è bellissimo lo indosso molto spesso e soddisfazione ed è un bel dress watch davvero poi passiamo all'Ugine Spirit top l'ho provato il 40 mm però a causa lag to lag mi era troppo grande al pulso e ho preso il 37 l'unica pecca è che è purtroppo la corona a pressione però non mi ha frenato dal prenderlo ragazzi ma se ti dicono 100 metri e anche se è la corona a pressione 100 metri sono no? devi fare un po' più accortezza nel controllare che sia ci puoi anche entrare in acqua con questo orologio per assurdo no? chiaramente chi è che va con lo spirit al mare ci vado con un diverino al mare è per quello che serve avere tanti orologi no? però se dovesse succedere che ti trovi in una situazione nella quale non era previsto ti dicono andiamo al mare tu guardi lo spirit e dici ah si andiamo pure al mare e ci vai anche se ti metti a fare il bagno non succede niente sei in piscina uguale non succede niente basta non fare i tuffi giganteschi no? che la corona si apra va benissimo lo spirit 100 metri a pressione anche se hai con 5 sport nuovi 100 metri con la pressione va benissimo ovviamente è un orologio stupendo stupendo e poi vabbè l'arcinotto è straconosciuto ma adesso ancora ha Icon che tu conosci molto bene ma certo anzi grazie a te l'ho scoperto sia questo orologio e sia il tuo canale per la prima volta ah grazie appunto alla video recensione di questo segnatino meno male sempre bello e un quadrante veramente ipnotico poi passiamo poi passiamo a questo oris botta questo bello top che passa in bronzo ero indeciso però tra il driver 65 che hai anche tu e questo alla fine ha prevalso quest'ultimo è meno male perché se prendevi il driver 65 che c'ho anch'io cioè tutti gli orologi che c'ho io li hai presi anche tu cioè meno male che hai cambiato che sei andato un po' per la tua strada se no è l'Icon è lo spirit poi vedo l'edox poi c'era il rado golden horse e tutti quelli che c'ho io e Dio che mi hai copiato sei un copione copione eh meno male che qua sei andato per la tua strada questo qua c'è il calibro di manifattura la secondiera ore sei che è una complicazione che mi ha sempre affascinato e poi per il movimento in house eh e fatto sta che alla fine ho scelto lui fatto bene poi anche senza data secondo me rende il quadrante più equilibrato più equilibrato poi su dai poi passiamo l'edox idosub visto questo lo conosci molto bene l'hai recensito ce l'ho anzi questo l'orologio che mi ha colpito fino a subito perché è un diver che si scosta molto dai soldi dagli altri la nostra personalità e questo colore qui mi ha veramente colpito ma lo sai e per ultimo ecco ma non per importanza top questo writing cronomat degli anni 90 che è veramente bellissimo è bellissimo questo bracciale rollo lo rende veramente iconico ma un orologio stupendo nulla da dire bene questa è la mia umile collezione umile spero di aver fatto cosa gradita a te certo certo mando un saluto a te tutti iscritti complimenti per il canale grazie grazie marco un abbraccione un abbraccione grazie per averci mandato i tuoi orologi che praticamente sono quasi tutti come i miei cioè mi hai copiato di brutto a parte non mi hai copiato sull'ultimo il brightling cronomat e quello ti deve servire da punizione perché ora me lo devi dare a me tu me lo dai a me così io lo metto in collezione poi ti guardi la mia collezione e dici mi manca il brightling cronomat e te lo vai a comprare se no non possiamo chiudere il cerchio hai capito detto questo non so come sei messo di salute ma mi sembra che insomma stavi un po' lì per per lasciarci cerca di rimeterti perché insomma mi sembra un po' di evoluccio va bene voglio vederti al prossimo watch meeting bravo marco prossimo video ciao davide mi chiamo Alessandro un saluto a tutti gli utenti del canale il canale è un par di palle l'altro con il video in verticale ma perché li fate in verticale perché perché con il mio primo orologio è un orologio con corredo originale zenith scatola originale in legno in radica di noce un orologio che apparteneva a mio nonno un modello zenith stellina carica manuale perfettamente funzionante tutto in oro giallo 18 carati a cui è stato cambiato il bracciale e montato un bracciale scheletrico che a me piace tantissimo gli conferisce un'eleganza particolare e senza tempo un orologio che io custodisco gelosamente anche in virtù di un legame affettivo che mi legava a mio nonno bravo passo adesso ad un orologio di casa Eberhard una maison che a me piace tantissimo ottima qualità prezzo peccato poco apprezzata dai più allora questo in modo particolare un Eberhard un Eberhard 8 Jours di nuova collezione ha una cassa abbastanza sottile ha un quadrante bianco latte meraviglioso una grande leggibilità a me personalmente piacciono i numeri romani nel quadrante l'ho preferito questo modello con i numeri romani piuttosto che con quelli arabi contatore ad ore sei dei secondi e decentrato ad ore tre la riserva di carica degli otto giorni cinturino stampa cocco originale Eberhard con il suo ardiglione la particolarità di questo orologio sta anche nel fondello dove si può vedere un oblò una finestrella dove è presente un numero 8 che sta a indicare appunto la riserva degli otto giorni di carica ora io con tutto il bene che voglio Eberhard però c'è un orologio così classico formale no elegante diciamo anche insomma magari un po' grandino poi dietro giri c'è questo giuoco che sembra la palla otto da biliardo sembra un po' un bel fondello addirittura liscio senza scritte no sarebbe stato perfetto poi ecco ecco qua l'indicatore della riserva di carica è molto utile è molto utile otto giorni come ho detto in un altro video no diventano anche difficili poi da tenere a mente quando l'hai caricato a che punto sarà l'orologio sarà scarico ecco ho fatto che con una riserva di carica la lancetta ti sai quando si sta per scaricare come fosse l'indicatore della benzina mi sta per finire la benzina e la rifaccio trin 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 e lo carichi no senza dover tenere a mente mi scrivo sul taccuino quando l'ho caricato dopo otto giorni adesso la devo caricare ok l'inserva di carica è molto utile ora c'è nel movimento a perliage e la quale si intravede anche la molla spirale della carica manuale non è la molla spirale passo quella lì è la molla di carica del bariletto è proprio la molla quando ti carichi l'orologio manualmente quella lì si restringe finchè non è carico totalmente e allora si ferma non è la molla spirale spirale è quella del bilanciere l'organo regolatore è diversa chiamarla così anche se è messa a spirale però non puoi chiamarla a spirale si confondono le idee ad un altro eberhard un altro un eberhard top un crono tazio nuvolari date devo dire una bella una bella referenza un bel modello la caratteristica rispetto ai classici tazio nuvolari è la presenza del datario ad ore 6 un quadrante lavorato in stile carbonio ciò che conferisce insomma la piacevolezza anche di questo orologio sono le lancette a colore rosso per indicare appunto la sportività anche la scalata tachimetrica è presente anche il suo cinturino in pelle stampa cocco io però ho messo questo cinturino in acciaio molto bello sempre originale eberhard con la tartarughina d'oro è bello fondello chiuso collaborazione a perliage bello e la dedica tazio nuvolari bello l'orologione questo complimenti bene passo adesso uno sportivo professionale di casa Rolex Rolex Submariner referenza 116 610 è acquistato qualche anno fa per me uno dei professionali più belli oltre che più semplice e gradevole di casa Rolex ha una grande portabilità insomma conosciamo un po' tutti questo orologio grande luminosità della lunetta e i puristi devo dire non piacevano per di questa serie le anze un poco più panciute più cicciottelle molti prediligono la nuova referenza che rappresenta le anze più sfilate sicuramente la particolarità ovviamente la chiusura triplock e il bracciale tutto in acciaio cromato con le scritte a contrasto per finire il pezzo forte della mia collezione uno dei marpighè referenza 15400 ST è un Royal Oak movimento calibro 3120 diametro 41 mm allora sono sceso di diametro possedevo due panerai che ho sacrificato per l'acquisto di questo un luminor marina e un automatic oltre a un IVC custodiver perché dal diametro importante rispettivamente 44 mm panerai 43 mm il custodiver ho preferito acquistare questo bellissimo a mio avviso Odemar Piguet Royal Oak solo tempo movimento calibro 3120 chiusura doppia deployant acquistato in un momento in cui ancora questo orologio si poteva acquistare oggi i prezzi sono saliti alle stelle c'è una grande speculazione penso che ormai questi orologi sfiorano di 40-50 mila euro io lo acquistai quando ancora si poteva diciamo così comprare bravo oggi i prezzi sono diventati proibitivi ma lo ritengo ritengo sia un bellissimo orologio di un'eleganza eccezionale da una grande portabilità design general gente e si distingue da tantissimi altri orologi bene bene questo al momento è tutto niente periodicamente vado acquistando orologi vabbè in cerca di ispirazione grazie e un saluto a tutti gli utenti del canale grazie a te e un saluto a te ora mi ritengo anche fortunato perché mi hanno stufato di orologi abbracciare integrato quindi guardando il Royal Oak pensavo che non mi interessa minimamente sono abbastanza fortunato mi hanno stufato questi tipi di orologi qua mi hanno un po' stufato anche il Vacheron Constantin no no non ci tiro più come magari ci potevo tirare qualche anno fa il Grail Watch no quello lì ah bello avercelo no se avessi tantissimi soldi da spendere non li spenderei in quello orologio lì non ho un qualcosa di differente comunque bella collezione dai anche il Submariner lì che dici quello lì sì in effetti lo si vede anche a occhio nudo che quelle referenze lì semi cioè precedenti all'ultima hanno una cassa un pochino più massiccia eh beh anche lì sono è un modello il Submariner sul quale io fatico fatico a a volerlo in collezione no se dovessi dire prendo un Rolex non prenderei il Submariner probabilmente ora come ora prenderei lo Yachtmaster che ho denigrato anche in un video e che adesso invece ho compreso qual è la sua funzione cioè quella di essere un orologio simile nelle fattezze al Submariner ma con una cassa che è molto più simile al Digest molto più classica più contenuta più sottile è più capito poi quello con il quadrante blu ancora lo Yachtmaster anche lui costa uno sfottio di soldi quindi va bene così ma sei promosso promuoviamo 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 la tua collezione aspettiamo che ne compri altri che hai detto ogni tanto ne compro come se invece gli altri qua sono tutti lì che hanno tutti la stessa scimmia siamo tutti sulla stessa barca come disse Robinson Crosue boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi siano piaciuti i video il presentatore ma anche il contesto generale e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love